Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con un nuovissimo episodio di Fortnite, capitolo 2, direte non perderci anche da dare subito in partita perché non vedo l'ora di giocare, veramente l'altra volta è finita malissimo col caricamento, questa volta speriamo vada un pelino meglio e che non esplode il video, ovviamente, speriamo in bene e vabbè, ci metterà 6 anni quindi ci vediamo direttamente in lobby direi, eh sì, caricamento, però questa volta è in nuoco, tranquilli. Ok ci siamo, siamo sull'autobus, ringraziamo l'autista ovviamente, ce ne andiamo ovviamente al lago languido perché non ci sarà nessuno quindi andiamo lì, ovviamente ragazzi l'obiettivo principale è quello di portarci a casa la partita, questa è easy win. Ok, apriamo il paracadute, sperando non ci sia troppa gente, dio mio, eh no, 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 non c'è assolutamente nessuno direi, allora direi di andarcene, ma sì, andiamo nel palazzo principale, se ci arrivo, arrivaci per favore, arrivaci, 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 Gigi ci è arrivato, andiamo, devo assolutamente prendere un'arma, devo assolutamente, qua c'era una casa, sta laggando la vita, sta laggando, dio mio, lagga tutto, no. Grazie